Buonasera, buonasera, qualche minuto iniziamo la proiezione, sento un odore di autà che a me eccita Zambotti, poche cose come l'autà mi eccita, va bene, non è un film, è una cosa bellissima quella che vedremo, voi lo sapete che in questi due anni col programma con Caterpillar abbiamo raccontato alla radio dei film che ci sono molto piaciuti e che erano un po' molto fuori dai circuiti ordinari, questo è uno di quelli che ci è piaciuto di più per tantissimi motivi, il mio è perché è il film più sorversivo che abbia visto negli ultimi anni, ma pesantemente sorversivo perché ti mette dei panni di alcune persone che sono molto come te, molto normali, molto banali, sono di Genova per dire il livello basso a essere le persone e loro fanno una cosa molto umana ma che è diventata molto sovversiva, cioè si riprendono in mano la propria vita per un pezzo di tempo un po' più lungo delle due settimane nelle quali noi ci costringiamo, ci costringe il mondo come organizzato a fare come dire, quelle che chiamiamo le vacanze, loro si dicono che hanno bisogno di fare una vacanza riduttiva, di mettere in discussione il tessuto della loro vita e lo fanno in un altro modo meraviglioso che mette in discussione io credo il tessuto economico, quindi è un film che Confindustria vorrebbe distruggere perché dice se tutti facessero così ci sarebbe meno bisogno di soldi, ci sarebbe un rapporto fra le persone basato sulla fiducia che è una moneta meravigliosa. Come direbbero gli indiani, A.O. Sono di Genova, ci vuole pazienza. Zambotti mi salvi lei. Loro sono Anna e Lucio, ve li presentiamo, sono i protagonisti e anche i registi del documentario che state per vedere, per tutti quelli di voi che hanno pensato ma sono stufo, mollo tutto e parto, loro lo hanno fatto veramente, lo hanno fatto nell'aprile del 2014, non vi anticipiamo troppo perché lo vedrete tra poco nel film e hanno viaggiato senza pagare nulla, senza passare dal denaro ma attraverso il baratto per vari mesi, lo hanno fatto con una bambina che è stata un piccolo mostro e tra tutti i film della Caterpia Distribution abbiamo scelto questo quest'anno e ringraziamo Carmi e il Cinema Gabbiano che ogni anno accoglie nella sua arena un film scelto da Caterpillar durante l'anno, noi scegliamo solo piccoli film indipendenti italiani, lo abbiamo fatto in questi due anni, ci inventeremo qualcosa di nuovo per il futuro e sperando che vengano distribuiti un po', ecco abbiamo scelto Unlearning perché voi, non dico grazie a Caterpillar ma grazie a voi stessi e a molti circuiti avete avuto una distribuzione incredibile, quante presentazioni avete fatto in giro per l'Italia quest'anno? Un centinaio, 120 Sì, contando quelli dell'anno scorso, boh Varie centinaia, qual è il modo, per far capire com'è che voi andate in giro per raccontare, che poi è anche il modo in cui avete viaggiato? Usando il baratto, nelle associazioni che lavorano per il cambiamento, comunque che hanno qualcosa da dire, buone pratiche, insomma tutto quello di cui voi parlate, invece di chiedere una retribuzione, chiediamo un baratto in cibo. Baratto in cibo e quindi vi arrivano cose Siamo genovesi Tanta farina, tanto olio, tante marmellate Gaia non è qui, la bambina che vedremo che ha viaggiato molto con voi, come l'ha presa Stare in giro sei mesi, non andare a scuola, conoscere un sacco di realtà, fare l'autostop, vivere nelle comuni, come l'ha presa Ma che adesso pensa di vivere in una comune, quindi è un po' un problema Va bene, noi non facciamo il dibattito dopo, a meno che voi non ci diate del cibo, però diteci una cosa a testa importante per capire meglio veramente il valore politico umano di cambiamento profondo nel film, una cosa da tenere d'occhio Il tempo, perché è forse l'unica cosa che non torna una volta che va e noi ce ne siamo resi conto e questo è stato motivo di profonda crisi, adesso dico una cosa seria, è una profonda crisi di modello, di famiglia e quindi questo ci ha fatto prendere la decisione insomma di mettere in stand by la nostra vita, non è stato semplice, ci abbiamo messo un anno, i nostri genitori pensavano che fossimo impazziti, i colleghi anche, insomma una serie di difficoltà che abbiamo potuto superare, però noi una volta che abbiamo capito che quello era il problema, ci siamo andati avanti e abbiamo fatto bene Dico due cose anch'io per me Bellissimo, io lo dico sempre, la questione del tempo è fondamentale, io dico sempre a Zambotti quando lei mi dice delle cose che non capisco ma che sono conto di me, di riflettere sul fatto che oggi questo è il giorno in cui lei, ma come tutti noi, siamo più giovani nella nostra vita Io non l'ho mai capita questa cosa però Portatemi con voi E come hai detto tu la fiducia, noi siamo partiti assolutamente non fidandoci del prossimo Al primo passaggio avevamo paura che ci facessero del male, al primo coach surfing che non ci fossero e poi alla fine, dopo sei mesi, non ci preoccupavamo più di dove saremmo andati il giorno dopo cosa sarebbe successo, questo è un grande insegnamento anche Visto che noi ci hanno dato da mangiare loro, quindi noi ci siamo, anche se non facciamo il dibattito noi alla fine del film saremo qua, quindi se volete farci delle domande informali Sì, noi resteremo In giro per le stradine, restiamo apposta E stiamo facendo un altro film sull'apprendimento libero Se siete interessati a saperne di più, lasciamo un tavolo con un foglio ci scrivete la mail e vi diremo che cos'è, come uscirà anche questo sarà una distribuzione molto particolare l'anno prossimo E useremo il crowdfunding Crowdfunding, giustissimo, giustissimo Vi lasciamo la visione di Unlearning, l'abbiamo scelto perché queste due persone in carne e ossa hanno fatto questa scelta, l'hanno fatta davvero se poi veramente volete chiedergli come, quando, come si torna nella realtà dopo aver viaggiato tutti questi mesi e quindi una piccola storia magica, un po' vera Ciri, è il momento? Perfetto Unlearning, grazie mille Grazie a voi